bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo un'altra bella bella novità per quello che riguarda fortnite e soprattutto per quanto riguarda le sfide che dovranno essere affrontate nella settimana 9 di fortnite abbiamo ricevuto un leak trovandolo in giro per il web e ci sono quindi i nuovi obiettivi vi ricordo ragazzi che ogni obiettivo regala un tot di stelle per il pass battaglia e al raggiungimento di quattro obiettivi su 7 otterremo 4 mila punti esperienza davvero davvero utilissimi anche se siete a livello già abbastanza alto andiamo avanti subito e leggiamo la prima delle sette sfide a recare danno alle strutture avversarie per un totale di 5 mila punti danno quindi qualsiasi arma voi utilizziate che colpisca i muri o le strutture avversarie avversarie vi verrà conteggiata nel counter e quando arriverete a 5 mila stelline per voi e punti esperienza sempre più vicini cercare scrigni in montagnole maledette quella posizione che praticamente è sotto crocevia del charpame guardando la mappa di fronte in alto a sinistra molto facile anche da fare perché ci sono due cripte molto grandi che possono contenere i ceste sia sopra che sotto e poi c'è un altro ceste in mezzo al cimitero quindi dovrebbe essere abbastanza fattibile come missioni costruire strutture niente di più facile per un totale di 250 non si capisce bene se 250 sia il numero di strutture che dovete costruire o la legna che dovete impiegare comunque il materiale per costruirle io credo sinceramente che sono 250 strutture singole quindi credo che un muro conti come una struttura che permetterti a costruire 250 fortini quindi questa era la sfida numero 3 si ripropone ma qua c'è sempre un punto di domanda una sfida che abbiamo già visto in questa settimana numero 8 visitate differenti negozi di taco in una singola partita 3 negozi di taco sappiamo già oramai dove sono perché abbiamo appunto dovuto affrontare la sfida anche in questa settimana questa è l'unica sfida che non si capisce se verrà veramente reinserita oppure semplicemente frutto di un errore da parte di chi ha trovato queste informazioni seguire qua ovviamente abbiamo ancora la ricerca della mappa del tesoro seguire la mappa del tesoro che si trova in putrido pantano quindi io credo sia vicino o alla casa quella vicino all'albero o dove c'è l'albero centrale comunque bisogna trovare la mappa del tesoro e andare nel punto indicato per vedere apparire la stella dal terreno eliminare avversari con shotgun loro la quattro avversari loro la catalogano come difficile secondo me non è poi così impegnativa da fare quindi 4 kg con il fucile a pompa e portiamo a casa 10 stellini che vuol dire un livello del pass battaglia così ultima sfida ragazzi eliminare avversari in approdo avventurato che non è altro che quella città che sempre guardando la mappa di fronte rimane in basso quella che ha in poche parole l'albero gigante rosa che a volte contiene al suo interno un cesto ma ragazzi queste erano le sette sfide che dovremo affrontare nella stagione numero 9 di fortnite che inizierà il 19 aprile io vi ricordo sempre ragazzi di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto noi ci vediamo in live ciao ciao